Oggi voglio parlarvi dell'olio di cocco. Dall'altissimo potere idratante e nutriente, l'olio di cocco è efficace per l'idratazione delle mani screpolate oppure dei talloni, che sono l'incubo di chi d'estate porta le scarpe aperte. Ha anche un potere emoliente, infatti sono consigliati in pacchi di olio di cocco a chi soffre di dermatiti o psoriasi oppure dopo una scottatura. È interessante anche l'effetto anti-age, infatti usato come contornocchi previene la formazione delle rughe, delle tanto odiate rughe e anche di borse ed occhiaie. Si può usare anche nei capelli come impacco rigenerante oppure come impacco antiforfora. Tra l'altro io consiglio sempre di comprare l'olio di cocco biologico spremuto a freddo, senza additivi chimici aggiunti, che si può trovare nei bio shop oppure nell'erboristeria ad un prezzo accessibilissimo. Si solidifica a 25 gradi l'olio di cocco, quindi nei mesi freddi bisogna scaldarlo prima con le mani e poi idratarsi. Come vedete essere belle con la natura si può.